Si mormora tra i grandi campioni dell'Alps Tour. Le voci dicono che oggi siano fondamentali i secondi colpi per acciuffare pin position gentili, pronte ad accogliere molti, molti birdie. Sì, Miglianico oggi si fa capire di più, muovendo la classifica proponendo in alto figure note del circuito. Benissimo, l'Italia, Manfredi Manica, già vincitore di torneo quest'anno, si porta otto colpi sotto al par, esibendo lucidità e un ottimo approccio alla competizione. Ottimo, il cammino di Enrico Di Nitto, Ludovico Addabbo e Luca Cianchetti in una comoda top ten sul penultimo appuntamento della regular season. Oggi però è l'Olanda a rubare la scena. David Porsius è concentrato, trova la perfezione di ogni posizione del campo ed imbuca senza pensieri. Meno 12 è il numero imbattibile del secondo round dal quale riprenderemo i racconti in una finale molto attesa. Eh sì, non solo la coppa e l'onore qui in Abruzzo, ma per molti punti fondamentali per un cambio di carriera. Aggiungiamo Pepe, sabato sera i primi sei dell'ordine di merito del circuito potranno saltare il primo stage delle qualifiche del tour maggiore. In bocca al lupo, tutti all'attacco, sing your life!